Ciao, questa che mi oggi colpisce molto forte è questa che Gesù dice che tutte queste cose che noi ha detto sono per dargli la sua gioia e per provare la gioia. E questa cosa, tutte queste aperture ad altri, lasciarsi ferire, perseguire, tutte queste sfide, è gioia. La gioia, gioia. Quando penso a questi momenti a volte difficili, quando anche soffro, quando mi sento ferita, quando mi sento non capita, quando mi sento rifiutata non utile, tutte queste cose che accadono. Ma penso che c'è in una fila qualcosa che non muoie, una gioia che sempre vuole scoppiare, una gioia che dà una motivazione, una gioia che anche se ha avuto sempre a coperta delle preoccupazioni e sofferenze, che sempre esiste. Quindi spero, e tanto spero che questo è il dono che lui ha promesso. E a volte mi naturalmente è molto molto spiace che non riesco più spesso a avere contatto con questa gioia. E tu, con cosa, anche hai questo problema che senti che vorresti provare più spesso, dare più spesso a esprimere questo che c'è, che Gesù promette. Grazie.